Buonasera amici della box e benvenuti a BoxStyle, il talk della Federazione Pugilistica Italiana realizzato in collaborazione con Armedia Sport e con String Plus. Oggi saliranno sul nostro ring due eccellenze del mondo della musica e della box e con grande piacere e onore che saluto Roy Paci, ciao Roy, ciao a tutti e Roberto Cammarelle, il nostro robertone, ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. Allora oggi siamo alla quinta puntata di BoxStyle, quindi come dire è un percorso, abbiamo iniziato piano piano, abbiamo avuto come una serie di grandi ospiti, grandi match dell'amicizia con Albertino, con Licia Nunez, Federico Zampaglione, Piero Pelù, ieri è stata la puntata con Piero Pelù, che si sono confrontati e messi in gioco con campioni come Clemente Russo, Emiliano Marzili, Fabio Turchi e oggi abbiamo due altre grandi fighter, ma il vostro non è stato il primo match, innanzitutto vorrei prima di tutto, ovviamente come in ogni match, le regole del gioco, allora noi abbiamo un match simbolico, tre round valoriali e poi l'abbraccio finale, che ovviamente sarà un abbraccio virtuale perché come potete ben immaginare ce lo potremo dare solo virtualmente, ma il vostro non è il primo match, a Sanremo 2019 eravate già saliti sul ring, vogliamo vedere come era andato a finire? Valerio prego, vediamo questo filmato. Ciao Elisa, ciao cara, maestro, sono emozionato, mi è emozionato, sono i grandi campioni, che rapporto hai con la box? Totale, totalissimo, gli sport di combattimento in genere sono molto affascinanti, perché lo facevo soprattutto non tanto per combattere, ma per dimostrare a me stesso cosa avevo imparato, c'è una filosofia dietro a questi sport, potremmo fare questa playlist di Roy Paci e Roberto Cavalli? E poi diciamo che noi le suoniamo a tutti, fantastico! Fantastico, grazie, grazie al grande coach Gianmarco Sandri che salutiamo, che ci sta guardando, vi siete affrontati oltre Sanremo con due direi arbitri d'eccezione, Carolina Di Domenico e Elisa Dospina. Roy, ma abbiamo finalmente questa playlist per far tornare Roberto sul ring? Guarda, l'avevo preparata giusto per questo rimatch che dovevamo prima o poi fare ed è prontissima, quindi io sono pronto diciamo a sonorizzare qualsiasi tipo di match per il buon Roberto. Ottimo, ottimo, quindi Roberto ti devi per forza allenare, devi per forza tornare sul ring, poi tra l'altro come ricordavamo proprio prima con Roy, prima della diretta, è stato un successo pazzesco, c'è un milione, più di un milione di ascoltatori. Roberto, ma tu cosa intendevi per noi le suoniamo a tutti? Con la musica di Roy che accompagna i nostri allenamenti le suoniamo a tutti e l'abbiamo messa anche un po' in palestra qualche sua canzone perché ha un bel ritmo e ci serve per riscaldarci. Beh, questo è importante, ma assolutamente quindi è stato un bel match, come un bel match è stato ieri sere, vorrei commentarlo con voi velocemente, il match del nostro Guido Vianello che è il primo italiano ad essere tornato sul ring dopo il periodo di lockdown del coronavirus a Las Vegas e ha vinto per capò alla prima ripresa, Roy ha gareggiato in questo teatro, quindi è una cosa fantastica perché hanno organizzato il match in un teatro, ma vediamo un attimo questo capò. Accidenti, eh beh. Siamo abituati a vedere il KO perché sette incontri di Guido, sette KO. Roy, cosa ne pensi di questo pugno sperrato? Ma io non sono ovviamente bravo come molti di voi insomma su quello che è il linguaggio della box nello specifico, però devo dire che in effetti ha confermato la potenza che si porta dietro e soprattutto ha consacrato questa meravigliosa squadra che lo continua ad allenare. Io penso che Vianello abbia veramente dei bravissimi allenatori che lo stanno facendo salire molto molto in alto e l'avversario un po' l'ha rischiata grossa perché da quello che ho visto insomma abbassandosi così magari Roberto lo può anche descrivere meglio, però ha abbassato tutto la guardia e lui ne ha approfittato per schiacciarlo completamente a terra. Sì, anzi io ti dirò che ho visto nei pochi attimi in cui Vianello è stato in azione un miglioramento personale sulla parte tecnica e devo dire che ha portato un bel destro, ha preso preciso sulla tempia il suo avversario che effettivamente cercava di schivare in una posizione non corretta e addirittura voleva anche continuare ma si vedeva che non ce n'era più. Probabilmente lui ha subito di più il lockdown rispetto a Guido, non era in disprende da forma, però era comunque un atleta che poteva impensierirlo. Sono match difficili questi se non sali concentrato, invece Guido è salito concentrato, insomma lui è una caratteristica tua, quella di essere convinto e sta sempre di più dimostrando la bontà del progetto suo e dei suoi tecnici e speriamo che presto arriverà a fare sfide importanti che servono a lui e servono anche a noi come Italia per avere un altro campione che ci porta a lustro nel mondo. Allora scusate solo un attimo perché ho un problema tecnico perché non vi vedo più. Possiamo dire che Guido Vianello è stato anche lui insieme a noi in quel collegamento a Sanremo, quindi anche lui fa parte del nostro incontro e ci segue anche lui, quindi è molto bella questa cosa, siamo contenti penso di parlare anche per Roy di averlo rievisto in azione anche perché è stato il primo italiano a ricombattere e soprattutto per quanto mi riguarda finalmente il pugilato ricomincia e per noi è molto importante. Sì, una gran bella soddisfazione in effetti almeno vedere insomma di nuovo degli sportivi che possono ritornare a fare quello che devono fare perché comunque si vede anche comunque che questo periodo lui l'ha passato allenandosi tanto per arrivare a questo successo. Questa è la prova che solo con il sudore, solo con lo studio, solo con l'allenamento si riescono poi ad ottenere dei buoni risultati. Sì, si vedeva che lui l'aveva preparato molto meglio l'incontro ed è giusto così. Ora ci manca in Italia di fare la stessa cosa e ricominciare. Devi sapere Roy che noi abbiamo ricominciato con la nazionale allenamenti anche in collegiale, però purtroppo ancora siamo bloccati all'allenamento individuale e non abbiamo il confronto fisico e speriamo che questa cosa si sblocchi il prima possibile perché le Olimpiadi sono state rimandate di un anno però noi abbiamo bisogno di fare l'allenamento non solo individuale ma anche del confronto perché così riusciamo a guadagnare quel tempo. Sennò in realtà siamo rimasti in stand by anche noi e non è positivo insomma. Certo. Eccoci, non so, scusate se mi vedete adesso. Ok, perfetto, scusate ma c'è stato un problema, non capisco perché però hai saltato. Allora, quindi voi siete andati avanti, ma lo so anche senza di me e fate bene. Quindi avete commentato il match. Io vorrei chiedere a Roy, allora la tua passione per la box risale, se non sbaglio, proprio a tuo padre, vero che era un appassionato di box? Sì, sì, guarda, mio padre mi portava come quelli che portavano insomma i figli al catechismo, ecco mio padre mi portava a vedere proprio gli incontri nelle palestre popolari del paese e poi era proprio un adepto del grandissimo, da prima Cassius Clay e poi subito dopo Mamme Dalì e soprattutto la cosa bella che è stato un insegnamento non solo per quanto riguarda la nobile arte dei guantoni, ma anche un insegnamento etico, sociale, molto importante quello di Mamme Dalì, come ben tutti sanno, quindi è stato molto formativo in quel caso diciamo apprendere attraverso la figura di un grandissimo pugile anche lezioni di vita, vera e propria. Lezioni di vita e sappiamo che nel 2017 ovviamente questa passione ha coinciso con il lavoro perché insieme a Raymond Zovino avete realizzato quel bellissimo progetto che tutti ricordiamo Fight for Freedom che era proprio un tributo a Mamme Dalì, a Re dei Pesi Massimi ma soprattutto a lui come simbolo della ribellione, vero? Esattamente, una regista ci invitò appunto a scrivere questa colonna sonora di questo film documentario sulla vita di Mamme Dalì e noi per la prima volta ci siamo incontrati, io e Remo che è tra l'altro un grandissimo pianista di origine campana ma vive a Pordenone e abbiamo realizzato questa roba qui con una naturalezza incredibile, è stato un bellissimo match anche quello con con il buon Remo e abbiamo tirato fuori la colonna sonora che ha fatto veramente anche un bel po' di successo ha avuto anche una vita propria al di là del bel documentario perché siamo stati tre settimane primo posto in classifica come miglior colonna sonora diciamo di quel momento e quindi siamo stati veramente molto felici di aver realizzato una roba dove si univa la passione e anche il piacere di poter fare musica appunto insieme. Beh è stato bello perché leggevo in un'intervista che avete ricreato prendi i rumori dei colpi di Ali quindi è come se foste entrati proprio veramente nel match, nello spirito di Ali nella sua tecnica quindi complimenti perché ce lo ricordiamo tutti ma prima di passare ai nostri tre round la fase del riscaldamento è importantissima e volevo chiedere a Roy e poi chiedere anche a Roberto ma la tecnica di riscaldamento che vale nella box vale anche per uno strumento come la tromba? Cioè c'è questo momento? Sì guarda io sempre di più sto cercando di introdurre elementi che ho imparato in tutti questi anni diciamo vent'anni anche se sono stati un po' intermittenti e questo lo sa il maestro Roberto insomma che rischierei proprio la fossa da parte sua giustamente però avendo praticato nelle palestre io vi occupo soprattutto di kickboxing e ogni tanto ho fatto anche altre cose un po' più esagerate in Sud America che il Vale Tudo che poi è stato poi trasformato in MMA devo dire che soprattutto la fase preliminare del riscaldamento è una fase anche molto molto importante che può tornare utile ai musicisti a fiato è una cosa che sto cercando di sincronizzare attraverso appunto gli insegnamenti dei maestri e prima o poi magari che ne so tirerò fuori un piccolo trattato ma non è un'operazione solo di marketing è un'operazione che dove veramente molti musicisti soprattutto con 35 anni di esperienza possono attingere attraverso quello che può essere proprio un riscaldamento vero e proprio anche utilizzando gli strumenti stessi facendo leva sulle arti è proprio una questione anche di sbloccaggio perché il più delle volte poi quando uno non fa stretching per così dire o allenamento prima di suonare si ritrova dopo tanti anni anche una serie di difficoltà no borsiti tutta una serie di cose insomma quindi è per me importantissimo quel tipo di allenamento beh bello e complimenti e comunque potremmo chiedere a roberto magari a quattro mani ti può dare una mano per per il libro perché no perché roberto ovviamente nella box il riscaldamento la musica anche importante nel riscaldamento perché tutto viene realizzato dal riscaldamento dall'allenamento fino alla computazione al ritmo di musica vero la musica ci ha sempre accompagnato durante il riscaldamento spesso durante l'allenamento i beat ci servono per far alzare il nostro cuore ed è diciamo l'immagine simbolo prima dell'entrata sul ring parte la musica quindi sale l'adrenalina perché senti la musica giusta spesso quindi la musica ci deve accompagnare non può accompagnarti ci deve assolutamente e ci accompagnerà soprattutto a quello di Roy Paci Roy entriamo proprio nel vivo dei match il primo match è quello con la forza e tu ovviamente chi più di idee ne ha dimostrata perché insomma sei diventato un campione della musica che si è distinto per stile e talento e quindi sicuramente ne hai avuta più di chiunque altro anche perché è una storia incredibile a cinque anni il pianoforte a dieci anni il colpo di fulmine per la tromba tour e collaborazioni internazionali con tantissimi artisti il cinema il teatro il nastro d'argento nel 2006 insomma più di 37 anni di carriera se non sbaglio fantastici ma quello che ti voglio domandare come si fa a diventare artisti del mondo senza dimenticare le proprie radici anzi valorizzandole a livello globale beh io in effetti mi sono considerato sempre un po' una sorta di cactus cioè nato in Sicilia perché parlo del cactus perché il cactus dovunque tu lo pianti se hai un po' di cura riesce sempre a sopravvivere e soprattutto non succhia tanta acqua non ha bisogno di succhiare tanta energia dal territorio dove si ritrova quindi alla fine non fa altro che addirittura può essere può ridare bellezza ad un angolo di una casa può essere anche una cosa bella da vedere in una spiaggia il cactus si ritrova dappertutto io mi sono sempre immaginato quando vado in giro nel mondo come un cactus che si sposta e che riesce a mettere radici perché mi sento molto un cittadino del mondo sicuramente mi porto dietro tatuato sul cuore quella che è la trinacria, il simbolo della mia terra ma lo utilizzo soprattutto per incastrare quello che è la grande passione la grande energia e la forza che l'Etna da sotto ci ha sempre pompato per poter connettere con gli altri popoli, con le altre società con tutti quelli con cui mi confronto ovviamente nello specifico nella musica ma anche nella vita di tutti i giorni perché poi un posto che frequenti lo vivi non solamente dal punto di vista musicale ma grazie al cielo anche hai la possibilità di poterti rapportare con la gente che ci vive, con le loro tradizioni, con i loro costumi beh diciamo che Augusta, Siracusa, dove provieni ma soprattutto la tua terra è fantastica quindi penso che condividiamo tutto tutti i sapori e la bellezza della tua terra che non si può non portare nel mondo cioè è impossibile, è impossibile perché rimane proprio nel cuore Roberto anche tu sei ovviamente l'emblema della forza ma non tanto per i più 91 kg e quindi per il tuo peso ovviamente che fa la differenza ma perché ti sei distinto da atleta con tre medaglie olimpiche, due ori mondiali dirigente del tecnico del gruppo sportivo delle Fiamme Oro team manager attuale delle Nazionali Azzurre membro della Giunta Goni insomma chi più di te da atleta fino a dirigente ha fatto un percorso straordinario ma come si entra nella storia della boxe e soprattutto dello sport? Allora prima di tutto pure io sono un cittadino No Forse un picco d'India però in realtà ho sangue lucano nato e cresciuto a Milano in questo momento trasferito, trapiantato ad Assisi quindi sangue del sud cresciuto al nord, stabilato al centro io sono cittadino d'Italia cioè rappresento veramente l'Italia intera come si fa a diventare rappresentante così a sito? Io sono andato in palestra per sbaglio dovevo dimagrire non ci sono riuscito però ho imparato questa meravigliosa arte che per me è un'arte io rispetto a tanti i miei colleghi e rispetto a diciamo la classica storia non ho rivalze, rivincite sociali a me piace il pugilato come sport e l'ho amato sin dal primo momento sono diventato bravo in quello e ne sono diventato un professionista perché mi sono impegnato tantissimo io volevo diventare campione del mondo come Muhammad Ali e poi in realtà sono diventato campione olimpico come Muhammad Ali per me diciamo che il sogno è arrivato molto molto bene però ci è voluta la mia forza interiore i tecnici che nella mia vita hanno attraversato la mia carriera sono stati tutti fondamentali chi nel bene e chi nel male perché anche chi nel male mi ha forgiato e fondamentalmente la mia forza è stata tanto di testa perché io fisicamente ho sempre avuto dei problemi ma li ho affrontati ogni volta con determinazione e sono diventati un valore aggiunto cioè dovevo dare qualcosina in più perché avevo bisogno di dare qualcosina in più ed è stata poi la chiave di svolta della mia carriera anche nel tuo caso come nel caso di Roy quindi è il guantone che ha scelto tu e Roy dice sempre che è la tromba che ha scelto lui quindi ho letto quindi anche nel caso di Roberto è il guantone che ha scelto lui sì io ho scelto le fasce poi il guantone ha detto allora quindi ha scelto te però tu non dai nomi ai guantoni perché io so che Roy vero dai il nome ad ogni suo strumento questa è una cosa bellissima perché fa capire il rapporto veramente di rispetto che hai nei confronti anche dello strumento quindi questo rapporto così anche emozionale questo rapporto perché nel mondo del pugilato è un po' diverso nel senso che il guantone d'allenamento è molto personale però poi vai a combattere e ti danno dei guantoni differenti quindi in realtà lo strumento che poi ti fa vincere te lo portano via non ti puoi affezionare quindi come ho detto prima ti puoi affezionare alle fasce che prima potevi scegliere tu adesso neanche le fasce puoi scegliere però fondamentalmente non mi attacco a questi strumenti però noi abbiamo altri getti scaramantici che facciamo prima di salire sul ring che sono fondamentali e una cosa è ascoltare la musica c'è chi non la vuole ascoltare e chi no per me è molto bello ascoltare la musica cuffiette nelle orecchie parte il riscaldamento la musica è fondamentale penso nella quotidianità quindi in tutti i momenti in tutti i momenti della vita dal lavoro alla vita privata crea rapporti genera rapporti con la propria famiglia quindi la musica è senza dubbio ci accompagna in ogni momento Roy uno dei temi ricorrenti delle tue performance se possiamo chiamarle così è l'abbattimento delle frontiere quindi ne abbiamo parlato prima quindi guantoni e tromba sono sicuramente come tu stesso hai chiamato la tromba dei passaporti per il mondo che tipo di linguaggio serve per andare oltre la musica? beh innanzitutto cerco sempre di abbattere qualsiasi tipo di frontiera anzi per utilizzare una frase famosa del grande mi ricordo se era Joe Louis se non sbaglio io cerco di mandare giù proprio al tappeto ai miei avversari il più rapidamente possibile per evitare proprio che soffrano quindi penso che sia importante abbattere le frontiere soprattutto quando c'è di mezzo una sperità quando devi necessariamente abbattere i muri dell'ottusità del bigottismo dell'ignoranza queste sono cose importanti da fare soprattutto perché io sono sempre per il sistema equalitario di tutte le persone che esistono e che vivono gli esseri umani in questo mondo quindi per me è importante avere dei messaggi molto sani quello che abbiamo detto prima abbiamo citato Mohamed Ali come uno veramente che probabilmente ha fatto di più come messaggio proprio etico e sociale che proprio essere uno dei più grandi campioni della box in assoluto ma è importante veramente portarsi dietro questa roba qui che poi è fatta da insegnamenti insegnamenti in famiglia insegnamenti educazione importante studio disciplina queste sono tutte cose fondamentali che ahimè ogni tanto sai anche un po' vengono tralasciate una delle cose che più mi perplime in questi ultimi anni è proprio il fatto di aver messo da parte l'educazione civica a scuola che era una delle robe che secondo me era fondamentale e soprattutto oltre ad introdurre l'educazione civica io introdurrei proprio anche gli sport a scuola in maniera molto più continue e costante sport che si possono anche scegliere però comunque gli sport da combattimento le arti marziali sono importanti perché ti relazioni con i maestri e i maestri per quanto mi riguarda sono sempre dei fari accesi nella notte la notte è questo grande buio che si prospetta diciamo nel futuro ma che può essere acceso appunto da un insegnamento valido grazie grazie perché Roi ti ringraziamo perché come dire hai sintetizzato un messaggio che per noi che su noi sono anni anni e anni che cerchiamo di portare avanti perché vero Roberto è importante poi Roberto ha tre figli quindi ne sa qualcosa vero dell'importanza di portare lo sport a scuola e la musica ma soprattutto del senso civico che diceva prima di cui parlava Roi ma è molto importante spesso non è neanche civico è solo educazione che manca purtroppo diamo per scontato certe certe cose perché le abbiamo sempre viste fare e pensiamo che la gioventù di oggi la prenda soltanto nel vedere in realtà va spiegato loro il perché a volte e manca una certa sensibilità del prossimo perché siamo molto presi in noi stessi spesso con i social non stiamo socializzando con nessuno in realtà stiamo sempre più chiudendoci dentro un'altra realtà ed è sbagliatissimo e le palestre in realtà ti portano nella strada della verità nella strada della appunto realtà dove tu quando prendi un pugno lo senti e senti il dolore vero insomma e quindi sai cosa significa fare male e sai cosa significa il dolore che è fondamentale poi c'è bisogno di maestri che tracciano un percorso spesso addirittura con noi nel pugilato i nostri maestri danno un percorso di vita alternativa io che faccio parte della polizia noi i gruppi sportivi abbiamo da poco da diversi anni poi non tantissimo però ho fatto dei gruppi sportivi giovanili dove andiamo in realtà socio-economiche difficili e portiamo lo sport nella legalità quindi un presidio legale e anche comunque una sicurezza in una vita in una strada pulita diciamo che è importante avere degli esempi e avere degli obiettivi che spesso i ragazzi non riescono ad avere beh assolutamente noi salutiamo il gruppo sportivo delle fiamme oro di cui fai parte e con loro abbiamo realizzato molti progetti e continueremo a farne Roy tu ovviamente sei un coach di giovani talenti perché come Roberto lo è team manager della Nazionale Azzurre tu hai formato continui a formare e riponi molta fiducia nei giovani talenti giusto? si moltissimo guarda tra l'altro si sta prospettando una bellissima come si dice scuderia di giovanissimi talenti perché sono tornato da tre anni in Sicilia dopo tanto vagabondaggio in giro nel mondo da trent'anni di vagabondaggio per le santezza sono tornato in Sicilia e ci sono tanti meravigliosi talenti che io ho una gran voglia proprio di allevare come hanno fatto con me i maestri nelle palestre nei dojo nei vari nei vari luoghi preposti per gli allenamenti io lo voglio fare con loro perché comunque è una cosa che mi è mancata quando ero adolescente cioè mi è mancato il fatto di avere qualcuno che mi potesse spronare mi potesse far credere anche con molta disciplina però credere che si può fare qualcosa soprattutto non bisogna perdere tanto tempo perché io non dico di evitare il gioco il divertimento però a volte perdiamo troppo tempo in stupidaggini prima Roberto giustamente ha citato i social i social sono a volte anche un'arma veramente molto molto deleteria per poter crescere per poter creare curiosità anche in quello che invece è la vita reale di tutti i giorni confrontarsi e questi ragazzi hanno bisogno di qualcuno per poter veramente avere anche quella forza quella fiducia io amo tantissimo anzi devo dire che forse amo di più allevare i nuovi giovani stare accanto a loro che salire sul palcoscenico perché mi danno un'energia incredibile lo sto facendo appunto con Etana Gigante con la mia etichetta indipendente ma diciamo è la continuazione di quello che i maestri che mi piace anche ricordare Omar Vergallo Adriano Casalino e Sergio Portaro adesso hanno sempre fatto nei miei confronti beh ti auguriamo e ti ringraziamo perché crescere i giovani talenti è fondamentale e magari tutte noi mamme desidereremo avere dei coach come Roy Pace e Roberto Cammarelle per i nostri figli questo è poco ma sicuro abbiamo parlato siamo entrati già nel secondo match anzi nel secondo round scusate l'abbiamo superato che è quello della passione perché abbiamo parlato proprio di passione adesso però Roy questa convergenza che c'è tra la musica e il mondo della box secondo te può avere come comune denominatore l'improvvisazione cioè che quella capacità di creare in tempo reale nel caso della box una combinazione di colpi e sicuramente nel caso della musica una composizione esattamente guarda l'improvvisazione è una cosa meravigliosa ma ti arriva solamente dopo anni e anni di esperienza a tal caso io mi permetto a questo punto di citare un caso veramente incredibile che tra l'altro ero presente del grandissimo pianista che non c'è più era Michel Petrucciani un pianista che tra l'altro aveva anche delle problematiche fisiche ma era eccelso quando suonava quindi assolutamente le riusciva proprio a scavalcare grazie alla grandissima l'immensa preparazione musicale che aveva uno dei migliori veramente pianisti che abbiamo avuto ma il jazz visto che poi si parla di improvvisazione è quasi sinonimo di jazz appunto la storia della musica jazz mondiale e lui un giorno in un festival mentre stavano per iniziare a suonare con il suo quartetto fu interrotto proprio all'inizio dalle campane di una chiesa che iniziarono proprio a fare il classico ding dong ding dong e cambiò assolutamente quello che era l'inizio di quel concerto perché automaticamente Michel Petrucciani si intonò alle campane ed iniziò a tracciare improvvisando una melodia completamente nuova rispetto a quello che avevano in scaletta questo io penso che sia proprio una forma talmente alta di improvvisazione che solo veramente esperienza studio lavoro e tanta pratica ti permette di arrivare a farla non è da tutti improvvisare ma quando improvvisi con conoscenza devo dire che fai veramente delle belle vittorie Roberto tu hai improvvisato sul ring no allora nel pugilato è un po' diverso nel senso che noi molto spesso lavoriamo di automatismo quindi proviamo riproviamo tantissime volte le nostre combinazioni in palestra e sul ring abbiamo meno di un secondo per farle partire quindi al solo accenno di un movimento del nostro avversario parte una combinazione in automatico però c'è un distinguo il talento del pugilato forse sta proprio lì dove improvvisa l'azione che magari non ha provato ha provato due volte che non gli riusciva ma che poi sul ring legge chiaramente che è quella migliore e la fa in una maniera straordinaria quindi l'improvvisazione forse nel pugilato è quella io sono onesto sono stato uno che aveva poco talento in questo perché il mio talento era provare riprovare durante gli allenamenti e quando io portavo i colpi era frutto del mio lavoro un fatto diverse volte anche se piace sul ring ogni tanto provare a cambiare quindi io ero un guardia destra cioè provavo a cambiare guardia provavo a qualche sistema nuovo però nel pugilato l'improvvisazione deve essere molto calcolata perché sbagliare ti fa molto penalizzare le cose soprattutto nella mia categoria basta un colpo per cambiare la storia insomma quello di qui dall'inizio del nostro racconto ha fatto vedere che con un colpo dopo pochi secondi dall'inizio è finita la storia quindi per noi l'improvvisazione deve essere molto molto pensata però il pensiero e l'improvvisazione sono due cose opposte è difficile da farle coesistere ottimo allora siamo arrivati al nostro terzo round che è quello con l'identità in questo round quindi lui ma questi primi due round adesso poi alla fine diremo che ha vinto quindi vedremo lo chiederemo ai nostri ascoltatori che ha vinto Roy nella tua straordinaria poliedrica diciamo carriera hai dato vita a delle sinergie a dei progetti importanti come abbiamo detto ma soprattutto ad un collage di influenze musicali oltre a questa capacità espressiva incredibile hai girato il mondo come abbiamo detto ora sei Teresa asferito in quello che definisci il tuo abitato naturale che è la campagna pugliese che tra l'altro è bellissima è straordinaria quindi è veramente molto bella ovviamente Siracusa è Siracusa e questo diciamolo perché noi siamo grandi appassionati della Sicilia ma come si costruisce un'identità così forte negli anni ma l'identità te la costruisci io penso soprattutto incontrando le persone i colleghi e poi cercando di di rispettare sempre e ascoltare tanto io devo dire che i primi 15 anni di attività ho ascoltato e ho parlato poco ho appreso tutto lo che potevo apprendere e non mi sono mai permesso di lanciarmi in una mia esperienza personale cioè capitanare un progetto ho atteso tanto perché ho incamerato tanta esperienza ho ascoltato quelli che lo sapevano fare ho proprio seguito anche la potenza la forza carismatica di certi personaggi quindi diciamo che anche la propria identità può essere anche quasi un puzzle che si costruisce piano piano e tutti i pezzetti possono essere appunto tutti i miei colleghi i miei amici da l'estrosità di un Vinicio Capossela alla grande saggezza di un Ivano Fossati al grande carisma di un Manu Chao alla grande potenza di Mike Patton sono tutti musicisti con i quali ho collaborato e che secondo me diventano poi veramente pezzi importanti per poter formare e forgiarsi attraverso tutta una serie anche di connessioni diverse tra loro perché questa è la cosa bella non sono mai stato un musicista ortodosso mi piace spaziare non ho amato mai le etichette e quindi mi è sempre piaciuto insomma cercare di potermi confrontare anche con le musiche dove magari non avevo assolutamente idea di quello che potesse accadere attraverso la scrittura l'arrangiamento anche il suono stesso e devo dire che il più delle volte mi sono sempre divertito quindi anche se nasci in una banda di paese a suonare le marce classiche popolari alla fine ti puoi anche ritrovare su un palcoscenico come trombettista a fare heavy metal quindi questa è una roba che è anche un po' come si dice un aiuto a tutti coloro i quali iniziano da poco a suonare uno strumento e non devono assolutamente mettersi davanti i parocchi per dire ecco lo strumento è fatto per questa cosa assolutamente no così come anche la box non è fatta solo per lottare e dare i cazzotti su un palco ma il grande almeno lo considero tale mio maestro assoluto della musica Miles Davis la box è stata per lui fondamentale per uscire da un grande incomum che era quella dell'eroina dell'eroina ma infatti questo si lega al prossimo tema che volevo affrontare con voi quello che appunto riguarda l'identità l'identità anche sociale sia nella musica che la box sono grandi strumenti di promozione sociale e Roberto è stato un grande ambassador testimonial di tante campagne contro il bullismo contro la violenza sulle donne diciamo è stato veramente sempre in prima linea nel sociale come lo è la musica tu Roy poi sei veramente stato diciamo uno dei precursori perché questa energia positiva e questo impegno civile ti hanno portato a grandi risultati parliamo degli otto pozzi di acqua che sono stati costruiti con Amra Finafrica per esempio che è una cosa che ci ha colpito molto ma e parliamo anche dell'ultimo brano siamo capaci contro la mafia che assolutamente è un tema ricorrente forte e che assolutamente dobbiamo combattere tutti quanti insieme perché solo uniti potremmo forse fare la differenza ma appunto cosa si deve fare secondo te Roy per cambiare le coscienze cosa si può fare dal mondo della musica guarda proprio partirei con l'ultima cosa che hai citato che io sono fiero di aver fatto questa roba qui anche perché è stato proprio un processo creativo naturale dopo la chiamata appunto del questore della questura appunto nella persona del questore e della della fondazione Falcone e di tutti quelli che erano insomma che ogni anno fanno questa manifestazione questo momento importante io ho accettato senza batterci perché ho sempre pensato che sin da quella volta lì ma non credo che di essere l'unico siciliano ma penso anche i non siciliani è come se avessimo perso un pezzo dalla nostra famiglia quindi la perdita di persone di uomini e donne come Falcone come Borsellino come la scorta sono stati per noi un pezzo di cuore staccato e dopo aver toccato la peggiore proprio tristezza i momenti più desolanti di smarrimento anche oserei dire ci siamo rialzati ci siamo rialzati perché abbiamo affrontato a faccia aperta quello che è la realtà e quindi lo facciamo grazie al cielo non solo lo facciamo in tanti e questo qui di Siamo Capaci è stata la dimostrazione che tutte le voci che ho coinvolto che erano quasi tutti alcuni non sono riusciti ad arrivare a fare questa a partecipare ma ti posso assicurare che veramente sono tutti quasi tutti i cantanti di questa terra hanno aderito anche loro senza assolutamente pensarci due volte ed è stato bellissimo perché come ho chiamato appunto chatu questa operazione è proprio il respiro di questa terra un respiro di una terra che vuole ancora una volta ribellarsi a certe situazioni sicuramente vuole porsi in una maniera migliore da come sempre ci hanno descritto questi luoghi comuni queste anche stupide anche noiose veramente ormai appellativi che non ci riguardano più la Sicilia è una Sicilia migliore e noi faremo di tutto anche a stare a fianco appunto delle istituzioni per poter per poter continuare a fare questa battaglia complimenti complimenti noi siamo con te la federazione pugilistica italiana è con te in questa lotta lo è la Sicilia che è una grande tradizione pugilistica quindi come dire è molto sensibile a questo tema e Roberto ovviamente ne parlavamo anche ieri guarda con Piero Peluche dicevamo quanto la rabbia il dolore che spesso ci toccano da vicino per queste vicende si possono trasformare in positività la positività intesa come azione cioè essere attivi essere in prima linea per combattere per essere diciamo come dire contribuire affinché le coscienze vengano sensibilizzate e noi nella box lo facciamo giusto Roberto? No a noi lo facciamo assolutamente quando succedono queste cose quando la gente perde la vita perché fa il suo lavoro per mantenere poi la legalità per le altre persone ci tocca ancora di più noi che siamo combattenti nati quando saliamo sul ring portiamo dentro la nostra voglia di vincere ma spesso è la voglia di vincere di tutto il nostro mondo quindi lo portiamo sopra il ring e lo facciamo per loro così quando faccio io come eroi ci esponiamo in altri progetti lo facciamo per gli altri e sentiamo quando lo facciamo la forza che ci trasmettono ed è importante la fortuna che abbiamo di essere delle persone note che riescono a lanciare messaggi importanti per noi è fondamentale assolutamente lo è e questo fa onore a tutto il mondo della box come a tutto il mondo della musica purtroppo siamo arrivati al nostro abbraccio finale e quindi questo ci dispiace perché noi saremo le ore veramente a parlare con te perché è un grande piacere e vorrei chiedervi una mano una mano proprio per lanciare un messaggio positivo dopo questo periodo che ci ha visto che ci ha messo a dura prova Roberto ha detto una frase di Roberto è famosa e ci ha sempre colpito che il pugilato arricchisce forma fa diventare uomo cementa il corpo e la mente con ore e ore di allenamento e sul ring non si va per dare pugni come dicevamo appunto con Roy ma c'è un modo di combattere uno stile una tecnica e quindi questo è molto importante nella musica penso che sia uguale Roy quindi quale brano musicale potremmo dedicare a tutta la community della box per lanciare un messaggio positivo beh visto che stiamo parlando di di una strada da prendere la strada migliore sempre cercare di di incanalarci soprattutto verso un preciso fuoco che è quello del rispetto della dignità dell'educazione bisogna camminarla questa strada quindi Walk This Way Run DMC featuring Aerosmith io penso che sia una bella un bel pezzone che dà tanta fortissimo Walk This Way e tu Roberto Roberto un colpo un colpo della box che vuoi dedicare alla nostra community un colpo vincente ma sotto le note di totta gioia e totta bellezza io porto sempre il mio gancio sinistro che ha messo capo il cinese Zhang Zilei tutta l'intera Cina e portato a casa l'oro da Pechino per l'Italia grande grandissima canzone anche perché ci mette gioia ecco veramente la parola giusta è quella che serve adesso quindi Roy ti prego dacci tanta gioia attraverso la tua musica perché ne abbiamo veramente bisogno e tu Roberto continua ad allenarci ad essere il nostro coach preferito perché ti amiamo veramente tanto e ora tocca ai nostri ascoltatori seguirvi quindi seguire tutti i consigli che avete dato metterli in pratica i vostri preziosi consigli perché citando un brano di Roy difendemos l'allegria proprio in tema di allegria una nuvola sul viso mai più ritornerà quindi questo Roy ce l'auguriamo veramente di cuore lo auguriamo a tutti i nostri ascoltatori al mondo della musica e della box quindi grazie grazie per essere stato con noi Roy grazie Roberto grazie veramente avremo modo spero insomma di poterti invitare a Bordoring per vedere un match a me sì 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 Bordoring però è sottolineato a Bordoring io Roberto sul ring non ci salirò mai questo sappiatelo questo match e basta questo match è bastato sono felice di avercelo amico guarda possiamo andare all'angolo insieme e basta esattamente raccogliere i paradenti da terra assolutamente sarà un onore invitarti quindi averti con noi per vederti dal video e darti l'abbraccio finale dal vivo cosa che appunto ci terremo tantissimo quindi io ringrazio tutti gli ascoltatori do appuntamento a domani per una nuova puntata di Boxing con il collega Tommaso Cavallaro ringrazio Valerio Fioroni Regia Stream Plus Armedia Sport tutta la federazione bugilistica italiana un saluto anche al presidente Lei che ci sta seguendo e che ti ringrazia Roy e quindi un abbraccio a tutti tanta allegria quindi vero Roy tanta allegria per tutti forse al mondo della musica e forse al mondo della box grazie ciao a tutti ciao